finita lì non hanno voluto indagare finita lì finita lì però andiamo avanti su la tua fonte e c'era ricordiamo anche il direttore di momag che è qui con noi perché io con lui che ti ha aiutato no lui io con lui lui è il direttore di un'altra testata io lavoro per una mia testata ma noi abbiamo una cosa che c'è una sì io lavoro dillinger lui lavora per momag ok noi abbiamo una cosa in comune da quando ci siamo conosciuti senso della notizia che non trovavo mai lui mi intervisto quando uscì il mio libro quindi noi tutte le mattine il mercoledì abbiamo il nostro caffè un quarto d'ora 20 minuti parliamo di tutto io e lui massimo geletti lo sa abbiamo fatto tutta la roba di messina danaro è roba nostra eh vabbè vediamo abbiamo visto non posso nominarlo no massimo no messina danaro matteo messina danaro lo puoi nominare non porta tanto bene come finita la trasmissione per fortuna qui siamo alla rai vediamo l'altro contributo non male questa annuncia non male per il nostro amico massimo fate vedere l'altro contributo appunto che fabrizio ha realizzato sempre relativa alla vicenda zagnolo e a questa fonte mi ha detto che la mamma si mette in mezzo e vieta i contatti tra la nipolo e la nipote ha denunciato il nipote? si e Il potere ha denunciato il potere? No, il mio papà, il mio nipote. Il potere non l'ha denunciato. Denunciato che è stato picchiato da? Si è risulta una denuncia di sicura. Si è andato l'anno scorso. Ma l'hanno picchiato a specchio? No, l'hanno scorso non. Si è la denuncia a specchio? Esatto. Non sai se è stato picchiato da? Sicuramente. Si. Cos'è lui? Si. E' un'altra cosa. Si. 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 Fermiamoci perché non capiscono. Il nipote? Si. Apro e chiudo una parentesi. Di questa persona. Tra l'altro i nomi sono usciti tutti sulla verità oggi. No. Perché è la verità. Il giornale è la verità. Perché è la verità. Questo signore. Nipote. Questo è lo zio del nipote. Ok. Dice una cosa importantissima qua. Dice. Lo hanno picchiato. E a me Moreno ci ha fatto vedere la foto. Una foto devastante che non pubblichiamo. Stato in coma. Lui non ha denunciato. Cosa significa? Cosa significa? No. Diciato. Diciato. Diciato il pane. Sì. Diciato. 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 Quindi si rivolge a lui. E in questa parte ci dice che c'è un audio. Noi in parte un audio ce l'abbiamo. Perché? Che oggi questi ragazzi filmano tutti tra di loro. Nel cellulare e in questa chiavetta che io non sono voluto andare a cercare. non mi sono limitato qui. Che esiste. Di cui però ti ho dato un pezzo di audio. Sì. Ok. Ci sono filmati. Video. Audio. Di loro che decidono. Gioco 53. Gioco 42. Gioca quello. Gioca quello. Gioca quello. Tre di loro. Chiaramente. Ma sono audio che incastrano. Il gioco delle scommesse. Che alla fine sottocipenti è un illecito della PGC. Ma. Attenzione. Che poi. Varca quella soglia. Perché arriva. In un mercato. Che è gestito. Da persone. Che sì. Ti permette. Di giocare. Senza soldi. Qui ritorniamo. A uno scopo giornalistico che hai fatto. Io non l'ho visto. Di quel giornalista che dice. Intervistando quel ragazzo. La mamma di Fagioli gli ha bloccato il conto. E Fagioli poi non ha problemi. E allora Fagioli cosa fa? Chiama A. E dice. 40 su B. Sulla parola. Sì. Però poi quei 40. Anche se non li prendi dal conto Ciro. Gli devi dare. Se no ti finisci in comodo Antonio. Sì. Ma. Vogliamo sentirlo uno di questi. Audio. Ai quali fa riferimento. Certo. Sentiamolo. Andiamo avanti. E capiamo bene. Che cosa. E' precisamente accaduto. E' l'audio. l'audio. Ah niente. Il problema della rete. Aspettiamo. Perché l'audio è importante. No. L'audio è importante. Però. Secondo me era fissato dopo. E l'abbiamo anticipato prima. Vabbè. Lo volevo anticipare. Così. Come mai. Però ti voglio dire. Allora ti faccio un'altra domanda. Sì. E' destinato. Ad allargarsi. Cioè tu hai fatto tre nomi. Questi tre nomi. Dipende dalla voglia. Dipende dalla voglia. Che la procura di Torino. Che ora sta indagando. Ha. Di allargare. A macchia d'olio. Tutto il. Tutto il calcio coinvolto. Chi ci mette di mezzo. Da chi interviene. Il business. È. Veramente. Troppo. Ampio. Se loro indagano. E risulta questo sistema coinvolto. Il trenta per cento dei giocatori. Pressionisti. Siano i professionisti. Eh. Smettono di giocare tutti. Ma finisce col calcio. Cede. Finisce il campionato di Serie A. Finisce la nazionale. Cede. Finiscono i contratti con le quali. Che succede. Che succede. All'italiano medio. Che vive per la vita. Che succede. E di cui. E del quale abbiamo grande rispetto. Che paga il biglietto e va a vedere. Che succede. È il problema che. Oggi. Loro. Ci tengo. È importante. Non lo so se l'hai fatto vedere prima. Io. Lancio fagioli. Dopodiché. So che sta per uscire l'inchiesta. E io. Decido di lanciare il mio sito di Linger News. Prima dell'inchiesta. Nel momento in cui esce la notizia di fagioli. Io sparo i due nomi. E mi hanno accusato di questa cosa. Sciacallato. Faceva il toto. Faceva il toto. Io ho fatto. Esattamente. Lo stesso. Meccanismo. Commerciale. Di promozione. Di un sito. Giornalistico. Regolarmente. Il risultato al tribunale. Che costa un sacco di soldi. All'editore. Che produce insieme a noi. E che porta lavoro alla gente. Ho fatto il mio mestiere. Quando io. Seguimi. Questo è molto importante. Sto per fare i nomi. Sì. Si presentano. A casa mia. Cinque. Sei polizioni. Suonano. Sì. L'abbiamo visto. Io gli faccio una solita domanda. Prego. La solita domanda che faccio sempre. Mi state arrestando? Sì. Ho subito sette volte in gara. Bene. Ah no. Ok. Allora posso. Bevete il caffè. Quindi. Già la prima domanda. Ero sicuro che non mi chiamava. Dico. Perché siete qui. Dovrebbe venire. In questura. A fare un sit. Io la conosco la legge. Hai detto no. No. Vengo domanda. Io non è che vengo. Se voi me lo chiedete. Posso venire. Quando voglio. Ah ma no. Aspetta che chiamiamo il procuratore. Ah no. Il procuratore vuole che viene subito. Allora. Mi inalbero. Con questo carattere strambo che ho. Dico no. Io ho finito la pena. Nessuno di voi mi può dire. Vieni. Fai. Dissi. Perché la legge non ve lo permette. Allora. Se ne vanno. Ritorna. E ritorna. Una persona molto per bene. Un sostituto. Il procuratore. Molto per bene. E mi dice. Questo. Non le dico. Perché ho bisogno di glorificarmi. Perché io non ho bisogno di glorificarmi. Perché io mi glorifico da solo. che la cosa più stramba del mondo. Ok. Quindi non ho bisogno di dirlo. Ok. Un mi dice. Hai vinto. Tu sei il più bravo. Tu hai ragione. Ti chiedo una mano. Vieni ora. Io quest'audio. L'ho pubblicato sul mio Instagram. E lui lo sa che l'ho pubblicato sul mio Instagram. E vado in questura. Quando vado in questura. La prima domanda è che mi fanno. Che nomi sai. Io li dico. So. Io non ti posso dire cosa li dico. Ma li dico anche questi due nomi. Loro escono dalla stanza. Telefonano. E mandano. E vanno a Coverciano. Ma non sarebbero mai andati a Coverciano. Se non avessero fatto i nomi. Perché avrebbero aspettato le partite della nazionale. E le prove su tutti. Sarebbero andati su tutti insieme. Vabbè. Questo. Lasciamo che la magistratura prenda la chiavetta. Faccia le sue indagini. Non lo sappiamo che lo prenderà la chiavetta. Vedremo. La strada è lunga. Siamo qui. E vedremo cosa accadrà. Ma oltre i tre nomi. Appunto. Che sono indagati. Come tu avevi anticipato. Ad un certo punto. Tu fai. Un quarto nome. Però. Diciamo. Il diretto interessato. Si smentisce. Vediamo. Che cosa hai detto su. Dilli. Come si chiama il tuo sito? Posso spiegare anche cosa. Si chiama Dillinger. Dillinger. Ma perché si chiama Dillinger? Ma come il. Vabbè. E' un famoso criminale. Ma te lo spiego perché. Perché mio padre. No ma te lo spiego perché. Le vai trovando. E' divertente questa. Te lo spiego. Senza fare pubblicità al giornale. Mio padre. Che ti conoscono. Tu conoscevi. Che era un grande giornalista onestissimo. Quando ero piccolo. Avevo tre quattro anni. Mi chiamava Dilli. Io in famiglia ero Dilli. Sono pronominato da Dillinger. Ho già tre anni. Ero un criminale. Vi prego. Mandatemi il video di Zaleschi. Vi prego. Vi prego. Fatemi sentire. Come rispondere. Tu. Sostieni. Sotto la tua responsabilità. Che anche Zaleschi. Guarda ti dico una cosa di Zaleschi. Eh. Se Zaleschi è un altro. Poi questa vicenda. Non ci voglio arrivare. Mi voglio fermare prima. Mi voglio un po' godere la vita. Un po' la mia fidanzata. Cioè. Non voglio andare oltre. Perché sennò poi li metto sempre nei guai. Questa vicenda è legata poi a un'altra vicenda. Perché nella mia vita è stato scritto. Zaleschi fidanzato. Da due anni. Con una ragazzina che mi sono cresciuta quando ha un anno o due. Eh. La madre. E' una delle mie più care amiche. Molto famosa da Roma. Amica di una persona che mi ha fatto il più grande male della mia vita. Con cui ero in buon rapporto. Eh. Non sono loro a dirmelo. Ma io conosco. Tante queste prove. E' stato anche un video. Sì. Di tutto questo giro. Di questo giro. Sono legate. Questo giro. Dunque lo centrale. Zaleschi. Zaleschi. Scusate. Zaleschi. Questo errore non lo devo fare. Zaleschi. Zaleschi. Gioca da anni. La diffida che lui ha detto di farmi. Cioè di diffamazione perché non è vero. Sì perché lui ti smentisce. Dice. Non è assolutamente vero. Ok. Non mi arriverà mai. Hai le prove? Scommetto tutto quello che vuole. Perché ho le prove che lui gioca. Legato a un certo tipo di ambiente. Tanto è vero che fotografato. Perennemente. Con questo gruppo di persone. Che non voglio fare il nome. Perché non voglio entrare in questa altra fase. Sì ok. Ma lui è. Il migliore amico. Di Er Sharawi. Amicissimo. Di Zaniolo. Amicissimo. Di tutto quel gruppo lì. Scommetto. Sempre. Però. Questa è sempre una tua ricostruzione. No. Non è una mia ricostruzione. Cosa succede? Con altri nomi. E' successo una cosa. A un certo punto. Come questo signore. Mi telefona un certo tizio. Io ho pubblicato. L'audio. E mi dice. Ti do un altro nome. Ma io lo sapevo. Sì. Zaleschi. 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 E reciclo. E mi dice. In un audio. che io ho messo su Telegram. bippato. Bippato. Delle cose. Che poi si collegano successivamente all'inchiesta che è stata con Moreno. Quadrano. Nei nomi. Nelle cose che io ho bippato. Perché non ci voglio entrare. Guardatemi. non ci voglio entrare in quella parte lì. Ok. Quella parte lì. Non entro. E ho bippato quei nomi. Sì. Questo tizio. A me mi serviva soltanto questa notizia. Quella cosa che mi ha detto. quando io l'ho pubblicato. Mi ha mandato un audio. Prego. 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 Ma io sono andato avanti per la mia strada. Poi ha chiamato tutte le redazioni. Tutte possibili. Ma ha chiamato anche il nostro amico Cruciani. Prego fammi. Ho trovato un decerebrato. Che fa un programma. Un podcast. Che lo ha intervistato. Senza sapere chi fosse. Cos'era l'indagine. Cos'era l'inchesta. Cos'era. E' arrivato il carpellino. E ha negato tutto. E ha negato tutto. Ci sono le prove oggettive. Ma ha trovato uno che poverino. Che poverino ha cercato. Come tutti. Non lo nomiamo neanche perché è un poverino. Di cavalcare la notizia. Allora. Diciamo che noi. Probabilmente torneremo su questa vicenda. Se tu deciderai di fare altri nomi. Ancora. E di portarvi altre prove. Io però una cosa. Te la devo dire. Perché. Perché io penso che l'aldopatia. Sia veramente una malattia. Ho visto persone. Perdere. Padre di famiglia. Penso che sia. Una battaglia giusta. Questa da fare. Indipendentemente da chi coinvolga. Perché. Bisogna dare il segnale forte a casa. Innanzitutto ai giovani. Che non si gioca. Che si distruggono vite. Però qualcuno ti ha fatto notare. E io questo te lo devo dire. Per correttezza. Intellettuale. E giornalistica. Che tu. Per un periodo però. Sui tuoi canali Instagram. Comunque. Telegram. Telegram e Instagram. Parlavi delle tue commesse. No. Promuovevo. Pagamento. Scommesse. Legali. Quindi tu. Lavoravi per un sito. Di scommesse. No. Io sono un personaggio pubblico. Non sono un influencer. Sono un personaggio pubblico con un traffico. Se te. Giocatore online. Sistema online legale. Promuovi delle scommesse. Legalizzate dallo Stato. Mi paghi. Con la fattura. E io. Tramite. La mia agenzia. Ti faccio una promozione. È una questione etica. Chi farlo. O non farlo. Se lo fa lo Stato. Sono commesse stradali. Qual è il problema? Ah. Tu parli di calcio scommesse. Tu parli di ludopatia. Posta sempre quella intelligentona. Tu parli di ludopatia. Tu parli di calcio scommesse. O poi dici. E accusi. L'indagine del calcio scommesse. È la roba dello Stato. Che cosa fai? Li condanni. Condanni fagioli. Condannerai gli altri 40. Però promuovi. Le scommesse calcistiche. Si. La prima rete. Dazon. Faccio il nome. Nasce da Dazon Beck. Ha i diritti di tutto il calcio. Ma Dazon. Nasce da Dazon Beck. Però Dazon. Legale. 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 No. Legale. Ma è legale. È legale. Non è che stiamo parlando di roba illegali. va bene. Va bene. Grazie Fabrizio. Basta. Devo dire che ho incontrato una persona più calma di tanti anni fa. Quindi forse questi anni ti hanno fatto bene. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a Fabrizio Corona che probabilmente tornerà con altre notizie. Vedremo quello che accadrà e cosa deciderà. Grazie a tutti.